ciao a tutti ciao a tutti benvenuti a una nuova puntata di tintoria l'ospite questa puntata Liliana Fiorelli ciao Liliana ciao Dani ciao posso dire che c'è anche Rapone oppure ancora non è stato svelato e anche in questa puntata c'è Stefano c'è Stefano Rapone se se facciamo una promessa necessaria se ci sentite strani o se ci vedete strani se stai guardando il video è perché abbiamo le mascherine siamo molto distanziati ci sono le finestre aperte perché come avrete saputo c'è un'emergenza sanitaria globale in corso e quindi abbiamo deciso di provare a registrare questa puntata con tutte le precauzioni del caso abbiamo preso le distanze con un metro letteralmente io e Rapone quindi abbiamo visto che siamo tutti distanti almeno un metro e mezzo abbiamo la mascherina la stanza è areggiata nonostante siamo a fine ottobre sembra il discorso dei terroristi che tengono la vittima va tutto bene mangia beve posso confermare che abbiamo tutto secondo le regole vogliamo un elicottero entro mezz'ora però sono molto contento che Liliana è riuscito a venire nonostante tutto questo circo a fare questa puntata sperimentale spero che spero che starei bene anche anche con tutti i disagi del caso grazie per me è un piacere sapere anche quanti sputacchi sono passati per questo microfono mi rende veramente infiniti sputacchi dei migliori comici e comiche italiani ma poi la mucchina cute questo che comunque è un complimento è stata è stata spruzzata sul filtro antipop e quindi siamo salvi quindi il passato ormai è un vecchio ricordo esatto non ci sono non c'è non ci sono comici del passato ci sono solo i comici del futuro ma soprattutto i comici del presente l'eliana fiorelli comica del presente io comincio ogni puntata dicendo come ho conosciuto l'ospite solo che noi ci siamo conosciuti in diretta su tutti a casa esatto e poi di persona a cena da momoca a proposito di tutti a casa questa è la seconda volta che ci vediamo no ci siamo intravisti un'altra volta a snodo però effettivamente non non ci conosciamo di persona è stato molto bello per me conoscerti su tutti a casa anche per me è stata una conoscenza molto millennial se ci facciamo caso non un po di conoscersi online sì un po meglio di tinder quasi no perché alla fine siamo subito visti cioè non avevamo pretese capito stato bello vederci vedere casa e bisognerebbe fare così è un tinder zoom no capito un tinder zoom e però come si farebbe a entrare in contatto con sconosciuti su tinder zoom non bisogna già ma tu ti ricordi chat roulette certo me lo ricordo perché non lo rinverdiamo tipo chat roulette che incontri persone e fai tipo guarda siamo in lockdown quindi parliamo non tirarti subito fuori il caso infatti era quello il problema che poi tu giravi su quelle cose c'era a un certo punto un un membro maschile che è colpa sempre del patriarcato il patriarcato ne ha fatti da anni ma vedi c'è un servizio che funziona chat roulette ragazzi era un servizio no oliato sì patriarcato ha distrutto anche quello anche quello è riuscito a distruggere anche chat roulette anzi cioè forse proprio l'ha inventato probabilmente a monte di chat roulette c'era uno ha detto come faccio a masturbarmi davanti a donne che ancora non conosco lo scopo era quello e ha creato chat roulette solo che poi cos'è successo che poi ti masturbavi davanti a uomini che non conoscevi perché poi che si masturbavano anch'essi infatti possiamo dire la teoria che parlavamo fuori onda che forse il covid è un modo per combattere il patriarcato come dicevamo poc'anzi assolutamente assolutamente sì assolutamente da cosa è nata cosa cosa ci hai detto prima perché ecco lo lascio dire a te perché appunto no vabbè io non ricordo quello che ho detto rapone però era qualcosa di inerente diciamo ambito fellazio rapporti orali era un'ottima questione secondo me cioè se tu sei positivo cioè positiva o positivo o positivo esatto giusto perché se io sono ancora si è ancora ancorato a vecchie esatto dal patriarcato e fai questa cosa che la fellazio il termine latino esatto poi la persona diventa diventa positiva bella domanda dovremmo chiederlo a oppure se magari c'è una situazione diciamo di ensemble no quindi a questo punto c'è una situazione di di rapporto orale no che poi questo questo viene poi spostato in un'altra situazione orale no quindi c'è una sorta cioè può diventare quindi possiamo dire che il pene è un veicolo io vedo molti vedo molti droplets in una situazione di sessi orali che si scambiano mamma mia mi sbilancio però ho un'altra domanda se sei positivo uomo il tuo sperma è pericoloso cioè contiene covid forse non è considerabile come droplet non è considerabile no no cioè il virus risiede solo nella tua saliva oppure anche anche nel seme ma nel sudore per dire che quello insomma vedi la forfora è il 28 ottobre 2020 quante cose ancora non saperemo guarda la prossima volta che tutti a casa ci sarà burioni mi chiedo scusa possiamo chiedere questa però posso dire una cosa che lessi non mi ricordo nemmeno dove io c'ero questa intervista in fase 2 ad una escort ha detto ah ma insomma come si fa i rapporti all'epoca del covid eccetera eccetera fa ma sai qual è la cosa che più mi chiedono adesso a livello proprio di migliaia di euro la pratica è il bacio alla francese ah cioè che romantica perché poi alla fine gli uomini che vanno con le prostitute so dei romantici so dei romantici e questo lo dobbiamo dire e questo sono contento che lo diciamo qua a tintoria sì è assoluto guarda mi sembrava una notizia comunque da condividere però è molto bella questa cosa torneremo alla caviglia al guantino il cerume dell'orecchio al naso al naso torneremo perché secondo me sarà la zona visto che non si può più vedere potrebbe essere ah è vero oppure capito invece far cascare fai cascare la mascherina capito you can leave your mask home questo ve lo devo proprio dire cioè adesso siamo andati una o due volte a fare una finta vita sociale tipo in un aperitivo un ristorante sì anche se siamo insomma degli odiatori della vita sociale giusto? però ogni tanto due volte siamo andati in queste fasi no? vi è capitato di lasciare il numero il nome e cognome nel quadernone all'inizio sì ma tu sai quante occasioni di rimorchio che ci stanno cioè pensa a tutti i film che potranno scrivere a partire no? da questo momento in cui tu guardi lei guarda lui tu hai capito che quella è lei tu prendi il numero la chiami pensa a quanti stalker cioè pensa a quel che bello eh sì sì finalmente e poi appunto se è quel fascino del vedo o non vedo perché tu ti innamori di una ragazza o di un ragazzo però solamente dallo sguardo come in Medio Oriente nei paesi dove le donne hanno il velo completo e tu solo dagli occhi devi innamorarti qui hai occhi i capelli per chi ce li ha e poi soprattutto pari opportunità perché appunto ce l'abbiamo tutti esatto vedi ancora una volta cari paesi medio orientali avete da imparare noi copriamo uomini e donne come la mettiamo la questione di genere si può dire che ci sono paesi un'altra cosa che pensavo è che adesso noi siamo tutti col volto coperto e abbattiamo le statue per cui mi viene da pensare che ha vinto l'islam quello non quello moderato però quello l'islam fondamentalista giusto quello puro da maschi alfa diciamo esatto patriarcale patriarcale quello se c'è se c'è un po' di patriarcato ma c'è un islamismo terrapiattista sai il combo sarebbe sai quelle cose negazioniste cioè quelle io ho un aneddoto su questa cosa ti prego avevo avevo un coinquilino musulmano tempo fa quando ero vivendo in irlanda e ci ebbe una forte discussione perché lui diceva che il corano era vero perché aveva previsto che la terra non era piatta ma che era aveva una forma non neanche tonda ma che sai la terra era un po' scacciata sui poli no? e lui diceva già lo diceva il corano prima che si prima di Galilei verificasse non era Galilei quella della terra tonda lo sto facendo confusione che è più schiacciata i poli questo si è scoperto il corano proprio diceva un po' schiacciatella ai poli e io infatti abbiamo discusso un bot questa cosa ma ti ha preso il corano alla fine per dimostrare questa cosa mi ha linkato dei video però di un imam e alla fine ho fatto ma che dice sto corano come è fatta sta terra lui mi ha detto dice che ha la forma di un uovo e te l'hai sbagliato non è giusto e quindi io non voglio ora inimicarmi anche i musulmani un momentino bisogna farsi tutti amici te so esatto quindi c'è stata questa però poi siamo rimasti in buoni rapporti quindi amici musulmani non mi ho detto ecca alla ecca alla ragazzi ecca alla vabbè allora possiamo dire finestre aperte mascherina un mio amico medico altra aneddota ha detto che in realtà è corretto starno dire nella mascherina esatto mentre l'istinto è quello di togliersi e starnutirsi nel gomito in realtà se ti starnutisci la mascherina è fatta apposta ed è sui due lati quindi se tu ti starnutisci nella mascherina poi il problema è tuo che c'è un po' di starnuto eh lo so ma è un starnutino diciamo di prurito ragazzi perché questi fanno anche un po' fanno venire brufi cioè parliamo anche di problemi è vero che a me la mascherina dopo un po' che la metto che si sfilaccia un po' i peluzzi mi entrano nel naso e mi viene da starnutire e chiaramente poi la gente pensa ecco fatto è arrivato è arrivato il covid esatto e invece no allora stiamo partiti da dove io ti ho conosciuta ma tu e Stefano già vi conoscevate perché voi vi siete conosciuti sul set nello studio di Mai Dire Talk esatto e Mai Dire Talk è il programma di cui già abbiamo parlato forse qua però programmate con la gialapas su media su Italia 1 Italia 1 prima serata e anche seconda di fatto era lunghissimo unica serata proprio Mai Dire Talk tendeva a a egemonizzare la serata in cui era in onda con tutto il rispetto per Mai Dire Talk era lungo lo dico con sincerità era un programma lungo era un programma lungo non troppo lungo però era una bella tipo tre ore e le riprese duravano almeno il triplo o meno però stavo divertente allora io volevo un po' parlare partire dalla televisione perché tu fai un sacco di cose ma fai anche la televisione e in televisione fai i personaggi spesso cioè fai come le limitazioni i personaggi interpreti dei personaggi allora la cosa ti volevo chiedere questi personaggi da dove vengono cioè che cosa fai tu per fare un personaggio come scegli il personaggio come ti cali in un personaggio come fai a fare un personaggio perché per esempio io non so neanche provare a fare un'imitazione quindi sono molto invidioso le persone che lo sanno fare bene ti ringrazio perché questa moto mi è entrata in cuffia questa molotov precisa precisa comunque ti ringrazio perché effettivamente me lo sono anche chiesta diciamo a posteriori nel senso una prima discrimine è parodiare o comunque impersonificare cioè un personaggio innanzitutto che ti affine o che ti sa sulle scatole anche questo c'è una questione di empatia o di antipatia rispetto a quel personaggio tanto magari puoi trovare degli spunti più di satira o più magari di commedia brillante semplice io credo che innanzitutto devi proprio trovare dei punti di contatto con te nel senso che ci sono credo una scuola di imitatrici imitatori fantastica in Italia io non mi ritengo un'eccelsa imitatrice nel senso che prendo il personaggio un po' lo trasformo lo adatto a me e ne crea una sorta di alter ego di personaggio di cartoon della persona stessa che vive una vita poi propria nel senso che perde propriamente le citazioni i tormentoni del personaggio reale per poi avere spesso anche un nome diverso insomma e quindi la prima cosa che faccio che mi rendo conto di fare è snasarlo snasare il personaggio nei social nella vita privata ma al di là di tutto perché nel social il personaggio ovviamente tira fuori un se stesso libero quindi non è che leggo non è che lo vedo né in televisione o se fa il cantante non lo vedo assolutamente nella sua sfera pubblica ma privata e soprattutto mi sono resa conto che devono essere personaggi ovviamente che hanno una percezione di sé abbastanza forte e strutturata cioè non non cerco mai personaggi per sparare sulla croce rossa per farci capire per deriderli o solo che trovare donne in Italia che abbiano tutte queste caratteristiche diciamo ci sono felicemente sarebbe bello se ne fossero molte di più per poter anche rappresentare un universo eventualmente poi per canto nostro da parodiare però insomma che è presente un po' una pluralità in politica è stato difficile perché insomma oltre a quei due o tre nomi era proprio difficile poi trovarne altri in musica anche in un certo senso alla fine le artiste parodiabili sono tuttora poche però piano piano insomma persone di forte tempra ok e quindi però hai detto una cosa molto interessante a quello che ho pensato tu sia che il personaggio sia positivo con cui ti riconosci insomma comunque sia che ritiene un personaggio positivo sia negativo tu quindi devi trovare un minimo comune denominatore tra te e lei cioè faccio un esempio Giorgia Meloni adesso io non so le tue affinità politiche però Giorgia Meloni è un personaggio che ha tutte le caratteristiche che hai detto cioè è forte che si esprime che tira fuori la persona che è in pubblico in privato sui social e quindi tu devi devi dire ok io e Giorgia dove ci incontriamo cioè qual è il nocciolo che accomuna a me Giorgia Meloni da cui poi parti guarda Dani questo esempio qua è l'unico che in un certo senso non è una mia idea originale nel senso che Giorgia Meloni fu una proposta direttamente nel programma di Domenica Live che facemmo io e Fabrizio Colica in cui all'inizio nacque come il format di By Virgi io facevo Virginia Raggi e lui faceva Di Battista trovando il format nella sua composizione di coppia ci hanno poi proposto di fare Giorgia Meloni e per lui La Russa Salvini eccetera eccetera quindi di fatto lì mi sono un po' ritrovata a fare questo lavoro artigiano però a posteriore cioè dire ok non è stata una mia anche perché in quel periodo insomma c'erano altre illustrissime colleghe che lo facevano quindi non mi sarei messa in un calderone ho cercato di dare la mia proposta rispetto poi nel nostro caso in un lavoro proprio di coppia era in Casa Vianello diciamo io e Fabrizio che cercavamo poi di creare sempre una situazione a coppia e in quel caso scelsero quindi di dare molto più risalto poi era un periodo anche in cui Giorgia Meloni faceva questi due minuti con Giorgia è stato quel periodo un po' di passaggio in cui il politico si è reso conto che diventare esso stesso mass mediale era una furbata quindi era il periodo in cui c'erano anche tanti materiali molto casarecci casalinghi quindi ovviamente il discorso è stato più donna a donna al di là poi della questione politica ok e su a te riguardo con Stefano avevamo pensato anche un'altra cosa sì avevo questo dubbio quando fai appunto personaggi tipo sempre non conoscendo la tua posizione politica però personaggi come la Meloni o questi cioè politici diciamo quale che sia sono stati Virginia Raggi la Boldrini per una sola volta delle tante puntate che comunque abbiamo registrato e non sono andate in onda la Meloni c'era anche un'idea di Emma Bonino ma era un periodo insomma in cui il personaggio aveva un momento delicato e quindi non ce la siamo sentita mi chiedevo ma non c'è rischio poi se sono personaggi che tu diciamo non apprezzi adesso appunto non sapendo però se non dovesse apprezzarli non c'è rischio che imitandoli poi finisci per farli diventare più simpatici cioè non ti sei posta o te lo poni come la vivi questa cosa guarda è una domanda giustissima me la sono anche posta e per dirti recentemente proprio giusto per dire che era una roba in cui l'ho abbandonata la satira politica quindi questa è già una risposta mi sono proprio resa conto che il problema è quell'effetto propaganda nel momento in cui al momento anche storico italiano adesso non c'è un potere cioè se tu vuoi fare la favola del re nudo chi è il re ora come ti muovi non esiste un potere così forte da poter deridere quindi inevitabilmente da satira finisci per per supportare per rendere più empatico sicuramente quel personaggio e oltretutto un po' alla Monty Python maniera che insomma c'era sempre stata questa riflessione che fecero loro all'epoca era una loro battuta in questione cioè loro si sono resi conto i politici stessi che diventare si stessi comici parodie di loro stessi è un elemento di comunicazione indubbio quindi alla fine diciamo che sì il rischio c'è il rischio c'è nel momento in cui c'è un momento politico talmente grigio che non sai più come poi anche lì dove sono i nostri eroi del momento dove è il potere forte dove è l'alternativa c'è anche quello non è che dici guarda c'è un aspetto valoriale come te muovi sbagli oggi un genio mito dopo due giorni fa una cavolata e non è più nemmeno lui il mito quindi dobbiamo un po' ritrovare i valori all'interno delle persone politiche ma questo è un discorso insomma proprio da Radio Radicale altro che da Tintoria che comunque possiamo sempre fare però si è un'osservazione che insomma ci è capitato spesso di fare che è difficile fare satira di un movimento politico di un mondo politico nel momento in cui i politici sono già ridicoli grotteschi esagerati e tu quindi tutti i meccanismi comici che potresti applicare l'esagerazione già lo fanno di se stessi e già li amplificano talmente tanto che poi è difficile aggiungerci qualcosa o trovare qualcosa e scusate io intanto sono distratto perché se vuoi sentire una macchina fuori a me proprio mi sta camminando nel cervello purtroppo la finestra deve restare aperta allora se se tu non hai ulteriori cose tra i personaggi che tu hai fatto in altri contesti c'è Ponente Ponente che è insomma la cugina di Levante esatto l'altrego di l'altrego di Levante che salutiamo assidua ascoltatrice di ah sì mi piace pensare non ho la minima idea ma allora Ponente che insomma essendo canta e tu pure canti perché quest'estate è uscita una canzone che si chiama Giorno Zero allora io sono un po' curioso di questa cosa perché persone che che fa insomma le persone che hanno diverse qualità io le invidio molto come dicevo prima perché io so fare pochissime cose a parte mettere il silenzioso al telefono perché il meccanico a cui ho dato il motorino ha deciso di chiamarmi durante il podcast e allora parliamo un po' di questa cosa di cantare cioè tu hai sempre cantato ti piace cantare e soprattutto è uscita questa canzone che invitiamo tutti quanti ad andarsi a ascoltare su Spotify YouTube tutte le piattaforme e vuoi continuare a cantare? sì 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 assolutamente nel senso che è stata cioè è una forma di mi libera tantissimo cantare scrivere soprattutto e farlo in un genere che per me è nobilissimo che è il pop proprio di easy listening proprio no? te lo metti radiofonico e mi piace perché comunque ti porta un po' in quella teca no? tu sei lì a scrivere in questo studio silenzioso tu è il tuo producer no? io di fatto ho un rapporto aperto con Alessandro Forte e Rivoluzione Dischi che sono il mio produttore e la mia etichetta a trovare un tempo per per continuare nel senso che Giorno Zero mi ha dato proprio appunto anche un punto di partenza nel senso che la cosa più difficile poi è capire che stile vuoi fare che è come una domanda filosofica che domanda è non lo so cioè magari Giorno Zero poi nasce come anche la storia dietro Giorno Zero è stata molto carina un po' film americano perché io la feci con l'uculere era una ballata anche un po' struggente nel senso proprio normale del termine una ballatona acustica e la feci sentire un amico e questo amico mi ha detto no vabbè questa roba è una hit assolutamente mandala a tutte le etichette che conosce eccetera eccetera e da lì proprio da una nota audio che girò Alessandro intuì che in realtà aveva una un elemento pop interno e che mi poteva anche dare una libertà in questo senso e poi da lì insomma vorrei prendere questa strada quindi sì questo è molto figo quindi tu questa era l'altra domanda però insomma già l'hai detto mentre rispondevi tu scrivi anche cioè non è che canti solo scrivi anche e suoni l'uculele io sapevo che tu suonavi l'uculele perché ho visto i video dove suona l'uculele come si finisce a suonare l'uculele cioè tu hai una formazione musicale su altri strumenti oppure a un certo punto hai detto fammi imparare suonare l'uculele totale no no io e i musicisti sono altri per me hanno tutto il mio rispetto eccetera no io diciamo che c'era quest'uculele che era un io poi lo suono da mancina io sono tutti strumenti a corda da mancina quindi anche lì ho provato con una chitarra acustica ma l'acustica no perché ovviamente è tutta sballata la classica sì ma poi se ho saltato le due corde non l'ho mai quindi ho fatto c'è sto regalo c'era l'uculele che era impacchettato era questo regalo rimasto proprio non scartato diciamo così e quindi ovviamente nel lockdown che te mangi la nutella te pulisci il bagno a terza cosa e aprimo sto regalo va finalmente usiamolo e qui mi sono ritrovata con questo ukulele ho fatto la muta e da lì mi sono ritrovata proprio cioè il bello dell'uculele è che ripeto i musicisti sono altri però è proprio un prolungamento di quello che è una melodia cioè è proprio quella roba di c'è la melodia in testa te la canticchi oppure la bofonchi e c'è quella roba di con l'uculele proprio diventa subito comunque musica perlomeno la testi subito se funziona e quindi io veramente anche per molti timidi molti ragazzi soprattutto perché le ragazze vedo che comunque l'uculele lo e invece lo bazzicano e invece guarda lo consiglio di parte che c'era anche Di Vedder che ha fatto un bellissimo disco completamente all'uculele mastodontico bellissimo struggente proprio da innamoramento Di Vedder che salutiamo guarda sempre Tintoria commenta spesso fa bene fa bene per dire è uno strumento poi che è talmente connesso con un arpetto è tutto molto legato proprio alle mani a come riesci poi a gestirlo tu con la pennata con tutto che non puoi fare i grandi cose a livello armonico ma puoi metterci molta personalità e quindi insomma quando c'è una roba in testa con l'uculele ti libera subito vedi che figata e io l'uculele me lo ricordo come lo suonava Gucci la moglie di Ted in Scrubs che stava là che insomma poi se no lei dice pure Scrubs dicendo gli unici uomini che suonano l'uculele sono degli hawaiani giganti quindi rispetto però Summer of the Rainbow fatta con l'uculele quella la canta un uomo cioè la versione che ho inventato io è cantata da un uomo quella dei taxi quando chiami il taxi a Roma il 35 settembre vero? esatto dico ma come ci è finita quella canzone quella canzone così positiva così bella così incredibile sul numero dei taxi romani è vero ecco se lo sapete vorrei saperlo chi è stato il selezionatore di quella canzone guarda che questa è una bella cosa chi è la persona che sceglie quale canzone va su quella determinata segreteria telefonica è una bomba è un bellissimo lavoro un'ottima questione per un sacco di cose eppure tipo quando chiami l'Inps quando chiami questi grandi numeri di attesa dove poi stai là per giorni noi comunque la musichetta io perlomeno l'apprezzo non so voi cioè meglio un po' di musichetta che solo la voce che ti dice resti in linea per non perdere la priorità acquisita esatto tra un resti in linea e un l'altro io gradisco un inno alla gioia un summer over the rainbow io parlo una cosa che non abbiano le note alte troppo picciate perché col microfonino fa quell'effetto fischio dei daino l'unghia sulla lavagna infatti voglio proporre di creare questa nuova figura professionale che lo fa live che ci sia qualcuno lì live che dice che musica vuoi e te la canta lui stupendo ma sarebbe un modo anche per questo momento difficile per tutti gli artisti guarda io ho amici musicisti che adesso lo farebbero starebbero lì a dire guarda che ti posso fare hanno un repertorio loro dice guarda io ti posso pure con la batteria un percussionista perché insomma tutti sai i turnisti come sappiamo stanno nella merda peggio dei comici peggio dei comici un saluto un saluto agli amici musicisti un saluto un saluto stanno tutti all'ascolto devi sapere che Tintoria è il podcast più seguito d'Italia i numeri parlano chiaro ok i numeri non controllarli no 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 però parlano chiaro io no volevo dire una cosa che tu comunque parlando di musica tu hai avuto l'onore di cantare con un grande della musica italiana che è Gianni Drudi ma guarda Rapone tu mi stai scavando nel cassetto dei bei ricordi quando eravamo a Maggiore Talk c'era Gianni Drudi che ricordiamo era quel cantante che cantava la canzone Fichi Fichi esatto termine tra l'altro usato in The Sims vero per indicare il fare l'amore il fare l'amore è vero su The Sims c'erano Fai Fichi Fichi e facevi l'amore in onore di Gianni Drudi che era famoso diventato famoso grazie alla Gialappas negli anni forse inizio 90 inizio 90 e c'era anche l'altra canzone che era Tirami su la banana col bacio giusto che lanciava che lanciava un singolo un inedito solo per noi in realtà era una rimodulazione di Fichi Fichi come se chiunque per cantare una canzone pop ormai deve passare da Fichi Fichi stupendo beh sì è stato un bel momento ma ti ha regalato il cd autografato del no me l'ha promesso ma mi ha aggiunto su instagram mi ha followata su instagram beh è allora per me io apposto il follow di Gianni Drudi comunque è un bel traguardo diciamo ragazzi c'è gente che continua a vendere i frullati sperando che qualcuno li noti io Gianni Drudi ce l'ho ma infatti complimenti complimenti perché adesso oltre a Gianni Drudi e tutte le altre cose che fai adesso c'è allora adesso parliamo di questa cosa la prima è che lei è l'ospite perfetto perché tu e io che abbiamo la barba ogni volta che parliamo io sento invece lei perfetta si sente rumore la barba contro la mascherina questa sarà una grande puntata dovremo depilarci la barba tanto non ce la vede più nessuno però invece l'ospite si sente impeccabile perché non si sente il fruscio della barba anche perché ho fatto edizione a confronto vostro insomma c'è anche un discorso enunciativo secondo me è anche merito della tua mascherina con degli struzzi si hai notato bene sono molto belli bella anche bella autunnale invernale per tenere proprio un microclima per tenerci belli il mento per fermentante perfetto che ci può spuntare un fungo diventa tipo le langhe la nebbia e le langhe e l'umidità e gli irti colli e gli irti colli che salutiamo anche loro salutiamo gli irti colli allora tra le varie cose che fai le tante cose che fai fai anche l'attrice e infatti io ti avrei invitato a questa puntata a dire c'è in questi giorni al cinema un film in cui ci sei tu che è i preditori che è i predatori di pietro castellitto purtroppo i cinema sono chiusi e quindi la domanda è quanto stai a rosicare perché comunque la prendo in falsetto eh sì no stiamo un po' rosicando ma perché no il cinema ragazzi non so quanto cioè l'abbiamo girato tutti nel senso l'abbiamo fatto avete fatto voi cinema qualcosa no no il cinema no il cinema da spettatore da spettatore io ho fatto un provino brutto io neanche questo poi ne ho già parlato me sai beh sul podcast di chi scusami un attimo no no in radio eh allora poi ne parli anche qua comunque il cinema c'ha questa cosa no come l'attesa della prima volta l'innamoramento della ragazza più figa del quartiere che finalmente te dà l'appuntamento quella roba di capito lo fai due anni fa capito eravamo proprio diversi cioè veramente l'abbiamo fatto due anni fa no poi con la consacrazione capito di un festival poi di un altro è proprio una sorta di che ti viene semplicemente quella voglia bambina di chiamare i tuoi parenti e farlo vedere cioè è una roba proprio per quello ti dico sì sto rosicando per un motivo se vuoi proprio affettivo no perché il cinema ha questo tempo talmente lento che poi quello che ti rimane è una condivisione vera e propria in un luogo per molti sacro quindi no vedi stai lì condividi senti l'applauso insomma è una roba cioè spero veramente si possano trovare modi sicuri per riprendere poi insomma io sto rosicato però insomma siamo in tanti ma so che ci sono tante produzioni che stanno riprendendo e quindi aspettiamo no noi tra l'altro abbiamo fatto in tempo a vederlo l'ultimo giorno l'ultimo giorno che bomba tra l'altro posso dire il cinema effettivamente è uno dei luoghi più sicuri probabilmente come percezione sembra uno dei luoghi più sicuri perché io ho prenotato dei posti online e appena ho preso posti distanziati sia davanti davanti dietro e ai lati sono tutti diventati posti come se li avessi comprati tutti io sì quindi la cosa positiva è che cioè diciamo in questo nel dramma del coronavirus secondo me il cinema e i treni sono le cose che hanno subito un miglioramento attenzione però e l'alta velocità perché l'alta velocità adesso no ti vengono un posto sì o no io sono stato sul regionale e sul regionale liberi tutti e quindi io avevo due mascherine per esempio chirurgica più FFP2 madonna sì non respiri però almeno sei sicuro è vero è vero che comunque per chi fa cinema è brutto perché hai metà sala vuota se non di più però per tu che sei spettatore vai lì guarda io ho riflettuto e non entro in dinamiche distributive che non mi competono e quindi proprio sicuramente sarà una scelta giustissima però dico proprio lo spettatore nel cinema e nel teatro è una persona che sta in silenzio c'è il pericolo proprio anche effettivo del droplet dell'interazione sociale del non ci sono bevande non c'è contatto fra le persone non ci sono scambi di nessun tipo quindi dico proprio facendo un paragone a livello di interazione di promiscuità sociale è oggettivamente molto più sicuro di molti altri luoghi che frequentiamo ci pensavo io però secondo me sai cos'è che comunque è lo scoraggiare la gente a uscire perché comunque se tu esci poi fuori dal cinema magari parli capito penso sia quello perché se noi effettivamente tutti con la faccia rivolta allo stesso lato quindi non ci si parla la mascherina sempre su rispetto a un ristorante pure qua vado a intuizione come ben sapete non sono un virologo ma mi sembra mi sembra anche a me uno dei posti più sicuri senti e sai attenzione ogni tanto il computer che è da buttare mi dà delle notifiche di terrorismo attenzione io dico attenzione ma sai se ci saranno cioè tipo i film che sono usciti al cinema tipo i predatori che c'è potuto rimanere tre giorni tre giorni sai che piani hanno cioè tipo se verranno messi su piattaforme streaming se poi immagino che ogni film ogni casa di produzione di distribuzione abbia piani diversi però insomma se ci sono altri modi di vedere il film prima che esca in DVD o in televisione credo di sì credo che già ci sono dei film c'era un film il film di Francesco Bruni che ha avuto la stessa sorta di predatori erano gli unici film se non erano gli unici due film italiani usciti per quella settimana lui è già andato ha annunciato oggi che sta in piattaforma cosa sarà insomma per dire i predatori al momento non ho ancora informazioni ma sicuramente a questo punto credo che si trovi la soluzione per renderlo il più fruibile possibile secondo me la macchina spettacolo ovviamente adesso non può minimamente fermarsi quindi si troveranno modi mi dispiace dispiace a tutti veramente di rinunciare a un luogo di non lo so c'è Colella che qualche giorno fa ha fatto uno speech fantastico alla fine dell'ultimo spettacolo al teatro argentina è stato toccante quando ho aperto non so se l'avete visto quel video no quindi è stato diciamo un primo attore che alla fine dell'ultimo spettacolo ha invitato proprio sembrava un momento di meta teatro ha invitato il pubblico ad accendere i cellulari e a riprendere questi cinque minuti finali inizialmente ho visto questo video sembrava una roba noi siamo un po' un po' in emergenza ho detto oddio invece poi ho seguito effettivamente anche per tutta la vita noi ci hanno detto non salvate vite umane il vostro lavoro appunto è è secondario ma in questo momento storico in cui tutte le paturri non so se anche voi fate sogni orrendi la notte sicuramente intensi ecco cioè in questo momento storico non voglio dire anzi è ovviamente provocatoria e ironica la mia cosa però i medici fanno il loro lavoro è bellissimo grazie a Dio che esistono però noi abbiamo una sorta di siamo assolutamente necessari anche per noi stessi per il nostro sì sicuramente per noi stessi sta cazzo del zanzara in novembre è il sottore insopportabile allora ora me lo andrò a vedere questo video di Codella perché non l'ho visto e recupererò senz'altro però tornando su un argomento più lieto sul fare film fare cinema tu hai lavorato quindi con Pietro Castellitto ma guardando sulle cose che hai fatto ho visto che tu hai lavorato anche col padre già esatto allora la domanda molto banale è com'è lavorare tra l'altro prima per Sergio e poi per Pietro com'è lavorare per padre e figlio alla regia si notano cioè è una cazzata però si notano cose in comune cose diverse momenti in cui dici ah vedi lui fa così lui fa cosà guarda ovviamente ci ho riflettuto anche perché poi sia Sergio è stato presente sia per Venezia sia per sia su Roma per seguire il film di Pietro quindi è stato sempre più o meno con noi te lo riflettevo in realtà sono talmente diversi in una maniera umana che verrebbe da dire che il lavoro di Sergio è boomer e Pietro è millennial cioè in una maniera assolutamente rispettosa e carina per dire proprio che non hanno cioè punti di contatto sono proprio modi di lavorare diversi io Pietro l'avevo conosciuto che insomma che lavorava sul set di Fortunata che è il film che ho fatto con Sergio quindi era uno uno dei ragazzi che si confondeva tra noi nel set di Sergio e quindi semplicemente a parte una magari velata somiglianza facciale nel senso proprio somatica non hanno punti di cioè hanno proprio due linee parallele poi insomma veramente quando quando anche riflettevo su questa cosa padre figlio basta proprio guardare il film hanno proprio due nature matrici completamente diverse e secondo me è stato proprio quello il bello che alla fine cioè loro la fortuna è che loro probabilmente non se la sono posta questa domanda se no c'è sempre il rischio di faccio una cosa per non somigliare per andare contro per invece linea retta e è un buon esempio questo anche cioè io sono è uno di quei di quei casi dico pochi casi nel senso che è sempre un roulette russa cioè non sai mai qual è il progetto che fai come lavoratrice come attrice e che poi ti piace anche come spettatrice questa è una cosa che non puoi prevedere fai un lavoro fai la tua parte fai magari il film sul cinema come dici questi tempi lunghissimi immagino che tu magari lavori e poi due anni dopo può essere che dici ah vedi peccato speravo diverso può succedere assolutamente poi quindi questo è uno di quei casi e poi la cosa incredibile è che il cinema questo che tu non hai assoluta percezione del quadro d'insieme probabilmente a quello stadio di ripresa non ce l'ha manco il regista quindi è proprio uno di quei casi in cui nella macchina del montaggio il film viene veramente in molti casi riscritto e infatti riflettendo su questa cosa dico wow che bello il cinema che crea proprio questa magia molto spesso si usa la cosa di dire questo è un film corale come potrebbe essere anche in questo caso perché i predatori è una storia di due famiglie completamente diverse che entrano in contatto per un motivo assurdo questo è un pitch alla buona però effettivamente rispettato rispettato è vero però per dire la prima cosa è dire film corale invece la cosa anche parlando fra noi attori in cui ognuno comunque ha avuto una sua linea anche ci sono grandi delicatezze grandi cura dell'immagine anche grandi oggetti simbolici è stato tutto molto studiato è un film è un prodotto a considerare a puzzle cioè non corale nel senso l'immagine capito corale che vuol dire corale cioè vuol dire che il puzzle è proprio un incastro in cui vedi il disegno nella sua formazione e molti di noi siamo rimasti emozionati e stupiti proprio nel guardarlo per la prima assoluta volta quindi c'è un atto di fede quando fai un film al cinema in questo senti la prima volta che l'hai visto che l'avete visto era a Venezia e com'è stato Venezia cioè comunque sia andare al festival di Venezia con un film dove ci stai ti era già successo guarda no mi era successo in una partecipazione piccola in un film che non era in concorso quindi comunque l'emozione così grande poi di fare il carpet poi con un'opera che comunque appunto stimavo anche la spettatrice che oltretutto poi i predatori ha vinto il premio alla sceneggiatura e oggettivamente una cosa che ho riflettuto è effettivamente pari pensandoci la sceneggiatura è una delle parti più pregevoli di questo film che è la prima parte che anche l'attore stesso intravede nei provini cioè quando ti arriva un provino la prima cosa che vedi è quelle due scene come sono state pensate scritte io già intuivo che c'era come si dice in Roma c'era roba capito perché e quindi l'emozione è stata proprio immensa è bellissima proprio quell'emozione che dici bellissima cioè si sono i superlativi perché comunque sei tutta tutta buona vai lì tutti che ti chiamano comunque tutto il cast molto spesso non vedi nemmeno tutto l'intero cast ovviamente lo conosci lì o comunque l'hai conosciuto poco tempo prima perché magari non ci hai lavorato nelle stesse scene e quindi c'è una situazione molto stile confraternita americana tutte pacche sulle spalle poi anti-covid quindi le gomitate tutte gomitate e no quindi a Venezia eravamo solo emozionati cioè sono uscite da là siamo uscite da là che non ci ricordavamo il film nel senso eravamo proprio poi ce lo siamo rivisti per bene a Roma e quindi lì sono proprio goduto beh deve essere un bel momento è vero che c'è la cosa adesso sto pensando che tu con un sacco degli attori del film non c'hai le scene in comune perché appunto sono due famiglie che poi si incrociano però quindi poi invece te lo trovi a Venezia e fai oh eccoci siamo noi ci siamo tutti esatto cioè poi non lo so poi quando trovi cioè Pietro è un ragazzo è un regista è un ragazzo molto libero in senso profondo cioè aveva le idee super chiare in ogni singolo passaggio quindi in realtà quando poi ha sempre detto no il predatore è un film di attori è bellissimo sentirtelo dire nel senso di responsabilità di una roba che non sei appunto l'attore esecutore o l'attore che viene scelto sei scelto ma poi ti dà la fiducia totale e la libertà condivisa di fare il tuo percorso e questo sono regali veramente incredibili perché poi a differenza magari di quello che succede in televisione eccetera c'è una firma che è anche depositaria di un'autorialità cioè registi televisivi pregevolissimi non sono minimamente comparabili però quando c'è un regista che poi mette la sua firma il suo nome e apre con te un dialogo c'è proprio una fiducia che appunto diventa quasi fede in alcune cose perché stai costruendo qualcosa che veramente non esiste che porterà proprio il suo nome e deve entrare un po' nella testa cioè è un altro ritmo un altro tempo c'è chi questi giorni dice ah non lo so magari fra qualche anno non esisterà più il cinema in senso la sala cinematografica io non lo so secondo me diventerà qualcos'altro forse qualcosa di un pochino più dico elitario non lo so propongo ipotesi perboliche però questa magia il cinema resta un modo il modo più bello di fruire dei film secondo me nonché per me uno degli ultimi perché oramai quando invece sto al computer alla televisione non ho più l'attenzione cioè proprio se devo vedere un film dico non me lo vedo invece al cinema vado là mi siedo e mi vedo il film e sono pure molto contento bene infatti siamo stati molto contenti di essere riusciti a vederlo al cinema perché se no adesso stiamo qua a parlarti un film che non avevamo visto molto bello ci è molto piaciuto poi noi eravamo anche curiosi inevitabilmente di vedere Giorgio Montanini perché come sai è in teoria podcast di stand up comedy e Giorgio è un fiero rappresentante della scena della scena italiana devo dire che fatto una porca figura recita molto bene assolutamente sì è veramente molto bravo e il film è molto bello tra l'altro tentati di voglio che Pietro è giovane Pietro c'è 28 anni 28 anni e quindi siete voi siete più o meno coetanei però si è dovuto anche rapportare con attori che hanno lavorato un sacco anche molto più grande di lui come c'è nel senso poi magari sono cazzi suoi però ti sembra che mi è venuto in mente adesso però ti sembra che ci sia stata la cosa di dire guarda devi far così però magari è un attore che lavora da 30 anni guarda mi lo sono chiesto anch'io direi il nome dell'attore a cui sto pensando però purtroppo esattamente guarda me lo sono chiesto anch'io nel senso che non lo so cioè me lo sono chiesto anch'io qualche giorno fa ho detto ma tu ti rendi conto alla fine mi sono messa io nei suoi panni ho detto ma metti in caso c'ho l'idea del film ok ce l'ho cioè quello l'ho scritto io però non l'ho pensato magari non l'ho scritto per protagonisti o personaggi di 26-28 anni l'ho pensato per magari attori di 45-50 anni che sono al 90% dei casi attori di prima fascia quindi attori famosi che lavorano da 30 anni quindi dici wow cioè tu scrivi un'opera prima ok ma devi interfacciarti con persone di questo tipo ci ho fatto la stessa identica riflessione non lo so ok va bene grazie grazie alla schiettezza è una domanda che non mi ero preparato e te l'ho fatta c'è una domanda stupida perché in realtà è molto penso sia banale però da ignorante non la so nel senso forse a chiudere da chiedere un regista però ti ho chiesto anche a te visto che comunque hai molta esperienza cioè quando viene scelto un attore per fare una parte ovviamente il regista lo fa con una idea di quel personaggio però tu dicevi appunto c'è anche molta fiducia che viene data a voi attori cioè non so se è questo in questo caso qui o in generale comunque sia cioè come come funziona in genere ti danno ti dicono tu devi fare questo ruolo e poi però tu ci metti del tuo nel senso che loro vogliono vogliono quel personaggio come l'hanno pensato loro e tu devi adattarti a quella che è la loro idea oppure ti danno libertà di essere tu a interpretarlo e quindi si fanno anche andare bene nel senso buono nel termine quello che fai tu cioè dalla tua esperienza come è una bella domanda nel senso che nella mia esperienza ci sono proprio due strade parallele diverse una proprio provano a fittare scusate il termine orrendo però proprio a far aderire una loro idea bidimensionale a una persona un personaggio un attore tridimensionale che è il caso ovviamente sia dei biopic oppure di biografie di personaggi esistiti o personaggi che devono avere caratteristiche o magari più televisive di vendibilità eccetera eccetera o aderenti a caratteristiche di somiglianza o legate ad un personaggio eccetera eccetera oppure la famosa parola che viene spesso anche usata nei provini che è fammi vedere la tua proposta ok che è una è sempre un'arma a doppio taglio perché in qualche modo dici ok la mia proposta nel senso che poi mi ingabbi e mi identifichi solo con questa mia prima proposta diciamo spontanea chiamiamola come vuoi o come è prima la prima che mi viene oppure una proposta nel senso che non è la minima idea e speri che un attore entri qua e ti salvi la vita ok capisci in che senso qual è una delle due e quello diciamo ovviamente nel caso A quello in cui cercano di adattare un'immagine bidimensionale ad una persona esistente puoi fare poco ma devo dire che te ne accorgi anche molto velocemente se proprio capisci prima che parli entri e già dicono ma no è troppo alta lo vedi proprio negli occhi quando c'è qualcosa che è al di fuori di te è troppo alta rispetto magari ha o degli equilibri interni che non sai sono oltre te nell'altro caso devo dire ci sono anche la scuola italiana di casting director italiana ragazzi tanta roba stanno ricevendo un sacco di premi internazionali stanno facendo anche diciamo è un gruppo professionale riconosciuto anche all'estero la nostra il nostro gruppo di casting director e quelli diciamo interessanti che poi ti fanno proprio lavorare torni a casa che hai lavorato per fare un provino sono proprio quelli che cercano un po' di entrare nelle fessure una via di mezzo fra la tua proposta se vogliamo più verace più organica più preparata nella stanzetta con le tue pippe mentali eccetera e ti fanno poi avvicinare alla loro idea ma in una maniera molto maieutica quando succede così a volte veramente torno a casa che proprio bella giornata ho proprio lavorato soddisfacente infatti sono contenta anche che da qualche mese questa è una piccola grande cosa che anche comunico perché dice non funziona niente è tutto schifo invece è una cosa hanno riconosciuto finalmente artisti 7607 e l'imaie che sono le due collecting che gestiscono anche i diritti d'autore scusate d'immagine degli attori riconosciuto il provino come parte del lavoro e viene ricompensato con dei rimborsi spese se sono fatti in sede o fuori sede con delle cifre addirittura di self tape con delle cifre di fantastico è una cosa bella è una cosa bella e allora è il momento di fare tutti i provini e ora scrivo subito la mia agenzia ma poi ragazzi è una cosa facilissima basta prendere la mail della gente inserirla mettere proprio due o tre dati di luogo e giustamente ti viene corrisposto così da queste piccolissime cose iniziamo in un futuro molto importante che fai l'artista capire che è un lavoro insomma non fai le recite nel senso ovviamente certo è chiaro beh figa questa cosa non ne avevo idea l'ultima cosa nel tuo caso di questo ultimo film quale è stata hai fatto la proposta tu come andava tu hai fatto la tua proposta o loro ti hanno allora lì innanzitutto il casting è Francesco Vedovati che è veramente uno dei più bravi casting che abbiamo in Italia riconosciuti in tutto il mondo ed è una persona che già me aveva vista in varie situazioni anche questa è una cosa da sapere nel senso che poi mettetevi nei panni al di là del lavoro che fai una persona che ha dieci minuti un quarto d'ora per capire chi sei certo una follia quindi è giusto che sia un un casting director che ti ha vista già più volte che ha capito che ti vede in quel momento in cui prendi il caffè quindi ti vede spontanea capisce proprio la tua e fatto un provino e fatto un secondo e provate in interazione Pietro era sempre presente e preso e abbiamo no di fatto è stato un po' un mix nel senso che sono state scene provate in maniera molto libera molto naturale molto naturale e vedevo la cosa la cosa bella interessante quando succede quando il regista in questo caso se c'è è bellissimo che ti informa proprio tanto sulla sua idea perché è come no siamo venditori di profumo a volte no cioè che te piace che te sei fammi entrare no anche banalmente molto spesso non capisci il tono di veramente magari da una scena non puoi capire perfettamente se è un tono cioè da una scena scritta come puoi capire se quella è dramma o dark humor non lo so dico per dire ci sono delle scene che dai dieci battute con magari scritto personaggi che dico e Pino prende Paola la strattona che vuol dire sono amanti hai pochissime informazioni quindi un buon segno è proprio quando il regista o chi per lui ti coinvolge nella sua mente lì è anche una di quelle robe che dici per carità magari si fa un film all'anno magari non ci camperemo per adesso eccetera eccetera ma che bello quando succede quindi sì è sempre un mix bellissimo bello sì immagino poi che appunto cambia anche banalmente tra affinità tra persone cioè può darsi che con tale regista uno si trova bene può darsi naturalmente quindi poi un lavoro molto difficile come penso sempre insomma l'attore l'attrice è un lavoro penso molto 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 difficile allora ho ricevuto un po' di domande il problema delle domande al pubblico non capisco mai se sono battute cose serie però la prima ti piacciono i gatti neri? sì sì mi piacciono più quelli striati o rossi ok vedi allora poi lui chiede lui vabbè a volte dico lui a volte dico questa persona comunque in questo caso dalla foto direi con lui io vorrei sapere se si definirebbe una persona ipersensibile o se comunque soffre per empatia capito? questo è il mio analista che mi ha scritto non lo so non lo so no no sì soffro per empatia sì no devo dire che è una cosa no guarda è una domanda giusta infatti solo che non so mai ho degli neuroni a specchio ipersviluppati sappiamo che neuroni a specchio come funziona cioè se tu adesso ti metti a piangere io mi metterò a piangere inspiegabilmente dopo due secondi anch'io quindi sì piango appresso a chi piange questo secondo te aiuta a recitare imitare sì ti ha aiutato questa cosa assolutamente sì ora che mi fai riflettere sì perché c'è proprio la cosa bella del guardare qualcuno che ti fa uscire fuori dall'ego perché tu non pensi io sto io guardo te se mi immergo in te mi entri dentro con le tue robe e quindi produco te stesso senza che me ne accorgo in realtà è una figata sì quindi un'altra cosa per cui essere no vabbè invidioso no perché poi appunto la cosa è che se muo rapone si mette a piangere tu piagni però rapone pensa non ha mai pianto in tutta la sua intera vita a me questa cosa capita col vomito perché io vedo che uno vomita anche a me forse mi viene però ero in specchio dello sbratto allora i gangli come si chiamano le ugole si non fa schio quindi poi chiedono hai letto ostrica no che cos'è neanche io non lo so però non so cos'è grazie della domanda ma non l'abbiamo capita Stefano tu sai cosa non so neanche io alba o tramonto alba alba toda la vita toda la vita alba vedi eh sì tra l'altro è una domanda banale però alba perché perché alba allora montighiamola cosa ti piace più dell'alba allora anzitutto vengono delle foto da paura cioè fatevi le foto all'alba basta con questi tramonti che vi fanno le occhiaie i doppimenti le foto all'alba perché la faccia è un po' coccolosa ma è questa luce nuova che ti accade quindi foto all'alba sì e poi l'alba perché perché siamo ancora vivi perché perché se c'è qualcuno che te è tu è due chi ha seguito vabbè ragazzi tamponati ma sì poi tu appunto abbiamo l'ospite tamponata che lavora sui set esatto poi parleremo anche di questo dopo le domande però insomma alba perché la luce è nuova è fresca e se hai qualcuno che ami lo baci e siamo ancora qua ok allora altra domanda alba perché ti sei svegliata presto o alba perché sei stata svegliata tutta la notte no perché ti sei svegliata presto ok ok allora sì perché l'alba quando sta svegliata la notte forse è il momento più brutto di tutti quando te stai svegli e dici non ce credo ma sai perché perché vedi venire cioè quella luce grigia del passaggio quello è terribile sì quello è terrificante e poi tu pensi tu hai sonno c'hai sempre sonno e poi invece senti gli uccellini e fai tipo no 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 e poi arriva la luce e fai tipo ho perso la notte adesso io sto indietro di un giorno rispetto a tutte queste persone che stanno in giro invece che cazzo faccio in giro devo stare a casa devo smettere di drogarmi beh potrebbe pensare qualcuno infatti ho detto tramonto per questa ragione perché comunque vuol dire che hai dormito bene la mattina invece l'alba vuol dire che ti svegli presto e quindi io c'ho sonno per motivi di comodo alba o tramonto più tramonto siamo dei sì sì perché comunque dei concreti è brutto svegliarsi presto diciamo no a me mi piace sì ti piace svegliarti presto abbastanza da vedere l'alba vedi questo onore a te vedi onore a te io sicuro a me piace svegliarmi presto però tendo a non farlo comunque sia banalmente sai cos'è forse facendogli spettacoli poi finisci lo spettacolo bevi un gin tonic c'è l'adrenalina il luna di notte a quel punto l'alba è già troppo tardi se devi stare così allora ne facciamo ne facciamo un'altra che è questa no non è questa che cos'era perché questa allora quando sei autrice come scegli il modo in cui esprimere le idee però posso fare una critica io a questa persona non mi piace questa domanda mi sembra troppo vaga quando sei autrice cioè al momento quando scrivi tu come scegli stai chiedendo questa persona è al mio plauso è perché guarda è una roba cioè figa no nel senso sì sì cioè l'intuizione poi materialmente in cosa guarda al momento Dani la cosa è questa che sto lavorando per dire anche come autrice su due progetti seriali e un altro e un altro invece come attrice principale ma sono stata scelta da un gruppo di scrittura quindi cioè sai quando la testa proprio di parte a Raggerano a Rosa dei Venti la cosa interessante mi sono resa conto di quando hai un'idea hai la ciccia no dici questa cosa funziona perché magari a livello anche come dico io ti deve funzionare tipo barzelletta qualsiasi cosa sia devi avere un primo un secondo un terzo atto sbo ok questa roba qui hai delle idee perché una struttura di questo tipo potrebbe appunto diventare uno sketch uno spettacolo una canzone anche la scrivi rispetto alle idee che hai un progetto seriale un libro non lo so anche editoriale la prima cosa che fai anche fortunatamente sono in un'agenzia per dire che ha tutte queste figure è prendere sta ciccia metterla anche scriverla a mo' di parlare con la tua migliore amica la butti giù come raccontino e andare a fare un po' il giro delle sette chiese con dei personaggi di cui tu hai stima ognuno di quella roba là quindi la tua amica sceneggiatrice la tua amica che gestisce i libri a livello editoriale insomma o il tuo amico con cui fai i web eccetera eccetera e capire anche dal loro feedback dalla loro lettura quindi la prima cosa è avere l'idea buttarla giù e parlarne subito con qualcuno c'era questo aneddoto molto figo che è un libro lo consiglio a tutti perché il primo libro che ti fanno io sono anche laureata in tutto questo in cosa in arti e scienze dello spettacolo però insomma l'abbiamo finita quindi anche questo è il risultato però questo libro che è l'intervista fra Truffaut e Hitchcock l'ho letto ce l'ho di là ma pensate bellissimo è uno di quei libri tipo incredibile assolutamente da leggere pure se fai un lavoro che non c'entra niente innanzitutto perché vedi due big totali che parlano già questa roba te l'immagine col caffè capito il tè che conversano e c'era questa cosa dice guarda a un certo punto credo che Truffaut fece una domanda del genere a Hitchcock insomma era una domanda di questo tipo questa domanda che io prontamente ho criticato Truffaut l'ha fatta Hitchcock è proprio scritto Truffaut esatto dice proprio insomma come scegli la qualità dell'idea era una domanda di questo tipo insomma in una conversazione Hitchcock dice guarda mi successe questa volta io le idee vengono in sogno quindi in sogno mi rendo conto che proprio la mente si libera quindi riesce a compattare cose che hanno a che fare con la fantasy insomma c'avevo questa idea pazzesca questo è il film della vita fortunatamente ormai lo so quindi mi metto un block notes e una penna vicino al bicchiere d'acqua sul comodino proprio a lunghezza braccio nemmeno mi devo alzare quindi proprio così mi sveglio che avevo tutto fresco subito prendo scrivo tutto faccio un sospiro mi metto a dormire cazzo non dice cazzo sì Hitchcock è una mia licenza poetica l'ho scritta l'ho scritta la mattina dopo mi sveglio vado là rileggo avevo scritto un ragazzo e una ragazza si incontrano punto effettivamente cosa c'è di più tu dici ho tutto è fatto ho il prossimo film poi diceva appunto c'avevo la distribuzione che mi diceva la produzione devi scrivere mi sono svegliato ce l'ho ce l'ho e la cosa è un ragazzo nel ragazzo di incontro è una cosa figa dall'incontro questo sia per rispondere a una cosa di semplicità come nasce un'idea a come io capisco dove mettere quest'idea è l'incontro la risposta anche se magari è una cagata infatti posso dire che io mi capisco spesso di sognare delle cose questa è geniale me la scrivo poi la vado a rileggere e fa cagare il 90% delle volte è sempre così capita anche a me però può essere che stai sognando qualcosa e lo provi a scrivere per tornare al solito discorso per la cosa sbagliata tipo io secondo me a volte sogno delle cose che sono delle bellissime scenografie cioè dei bellissimi scenari in cui potrebbe succedere qualcosa quindi io mi ritrovo nel sogno a vivere tutto magari una struttura esatto un po' videogiochesco che penso questo non è una bella storia non è una bella idea però se succedesse qualcosa qui sarebbe molto bello sarebbe un bellissimo posto in cui entrano dei personaggi e poi non ci faccio niente con queste cose me le scrivo e restano lì una vita da scenografo un inconscio da scenografo un inconscio da scenografo o da gamer o da gamer o da gamer la scenografo gamer che secondo me tra l'altro scenografo e gamer hanno moltissime cose in comune ma questo ce lo teniamo per un'altra volta allora siamo arrivati a un momento un po' clou perché non so se sai che Tintoria è il podcast della legalizzazione qui si è sempre fatta promozione la legalizzazione delle droghe leggere e prima io chiedevo all'ospite cosa ne pensa la legalizzazione ma questa domanda non mi dava soddisfazione perché la maggior parte delle persone poi mi diceva io sono abbastanza favorevole a una insomma al controllo del commercio della marijuana piuttosto di lasciarla alla mafia quindi la mia domanda è essendo noi registrati puoi anche dirmi non mi vado a rispondere togliamo tutta questa parte che rapporto hai o hai avuto con la marijuana e se ce l'hai o l'hai avuto che impatto ha avuto se ce l'ha avuto sulla tua creatività wow è una buona domanda nel senso qualche canna me la sono fatta tranquillamente dico proprio non le so mezze girare non le so non la so cioè quindi come dire la vivo più in una maniera assolutamente sociale e conviviale poi poi non lo so la cosa terribile in realtà è proprio l'esistenza del tabacco se proprio devo dire questo fatto proprio quindi per assurdo me la rende meno proprio me la rende poco agevole poco di utilizzo io non non la collego necessariamente alla creatività quanto proprio a un aspetto più sociale di insomma che poi adesso con il covid immagini a fare la turca non si può manco più non si può manco passare le canne ognuno con la canna propria esatto no però per dire ne ho ricordi vividi devo dire anni più liceali proprio giusto per dire proprio collocarli e belle serate belle serate sì bene bene grazie mille della risposta questo è esattamente quello che volevo semplicemente la testimonianza delle persone nel loro rapporto va bene senti siamo abbiamo fatto la nostra ora di podcast vedi cosa succede quando ci si diverte e adesso quindi io ti chiederò normalmente io lascio igienizzare no lascio il microfono e vado a prendere un pennarello però il pennarello visto che stai in emergenza già l'ho igienizzato quello è tutto amuchinato e se ti va di firmare mi alzo me ne vado io però mi alzo sì devi alzarti tutto in slow motion però facciamo capito oggi è grazie intanto io parlo e poi l'ultima cosa che chiederò a Liliana quando tornerà al suo microfono sarà di parlarci dei suoi progetti futuri se ha un messaggio per gli ascoltatori e le ascoltatrici lo potrà lasciare se mi ci metti anche la data è il 28 10 2020 grazie mille sono molto contento della mia collezione di firme di ospiti perché sono molto contento del fatto che non invito persone che non mi piace quello che fanno quindi ho solo firme di persone che mi piacciono sono molto soddisfatto del mio poster di tintoria che non mi stanco mai di dire che ho pagato come una un'utilitaria l'artigiano che mi ha fatto quel poster in legno ha detto beh è appena finito il lockdown fammi pagare la pensione con questo ragazzo calvo che è venuto a chiedermi questo bizzarro poster in legno e così è stato ho dovuto aprire un mutuo però ne è valsa la pena solo per avere questa pregiata collection di firme attenzione ancora più dettagli mi piace molto questa cosa che poi si crea un po' anche una sfida se vogliamo alla firma alla firma più bella va bene grazie mille a questo punto io ti chiedo l'ultima cosa se ci sono progetti futuri promozioni perché sai adesso con la pandemia è tutto più difficile però se ci sono progetti futuri di cui vuoi parlare dei teaser delle cose che vuoi dire o semplicemente se vuoi salutare i tuoi ascoltatori e le tue ascoltatrici puoi fare quello che ti pare il microfono è tuo grazie veramente davvero era figata perché appunto tutte le situazioni stanno diventando sempre più difficile anche beccarci fra di noi esprimerci fare qualcosa quindi innanzitutto grazie Daniele grazie Tintoria perché grazie Napoli Rap One soprattutto per gli amici internazionali e no al momento sto girando una serie una serie per Indigo regia di Gianluca Tavarelli siamo in lavorazione quindi insomma c'è poco anche da dire però è figo insomma si lavora e si resiste quindi questo è un buon messaggio che condivido insomma dai e ce la possiamo fare e ci saranno belle cose nei prossimi uno o due anni bene ne parleremo ne parleremo aspetta non abbiamo parlato del suo capolavoro che è Photoshop che è quel ultimo film che hai fatto forse ah ma dove mi stavo per scordare no esatto allora qui per gli ascoltatori e le ascoltatrice sono rimaste fino alla fine vorremmo che tu ci parlassi di questo aneddoto che hai detto per la prima volta credo su tutti a casa allora parlaci di Photoshop ti prego ti prego ho proprio detto a Stefano poi le chiediamo questa cosa mi stavo scordando invece no guarda allora Photoshop io avevo poco superata da poco la maggiore età è un film che proprio nasce sul suggerimento di una mia amichetta che all'epoca iniziò a lavorare in produzione guarda Lily no perché c'è questo film guarda descrivono il personaggio sono cercando proprio te ecco vedi tre hai vinto un premio ho vinto qualcosa e sono cercando proprio te vado a fare questo provino e di fatto stavano appunto formando questo cast per questo mockumentary che insomma sappiamo cos'è il mockumentary una via di mezzo fra un film di fiction e un film documentario quindi The Blair Witch Project per intenderci in cui tutto sembra reale era anche c'erano anche di coloro che ci lavoravano che erano della produzione di Dario Argento quindi in realtà siamo finiti in un paesino della Calabria in questa casa infestata realmente dai demoni noi quattro quindi io e i miei tre colleghi ti riferisci ai calabresi spero no no i demoni veri i demoni no le finestre le porte no 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 proprio roba di questo tipo valutiamo la Calabria stavo scherzando una terra meravigliosa no no proprio era questa casa che era cioè tu vai a fare un film horror ma pensa se la location è realmente infestata capito quindi eravamo sempre su questo stato di ansia questa bella idea per un film tra l'altro tutti vanno a girare un film horror e poi gli succedono forse già esisterà vabbè chi lo sa una bella idea questa la tagliamo perché le belle idee non vanno mai dette in pubblico mai dette comunque no e quindi siamo ritrovati a girare questo film tra verità e fiction in uno stato quasi semireale poi le riprese erano molto sporche e alla fine vabbè c'era questa bambina indemoniata che ci uccideva e soprattutto io muoio muoio proprio male posso dirlo vedete lo photoshop insomma si trova e io muoio male ma muoio sgozzata con questi fiotti aortici che sgorgano dalle delle mie del mio pomo da damo e muoio malissimo sono appena la penultima a morire questo ci tengo comunque sai quando si dice la bella morona che viene che stupi no io ho resistito e sono stata la penultima e con orgoglio e chi è il primo che muore il primo che muore è un calabrese nero guarda eravamo quattro personaggi ovviamente racconterò solo le caratteristiche del personaggio i tipici quattro amici proprio da film horror quindi c'era il bel figheiro la mezza bella figheira la ragazza bellissima anche lei però magari un pochino più chiusa e colui il personaggio era proprio colui che mangiava sempre quindi si attardava sciaghi esatto quindi il primo a morire era proprio lui perché aveva queste merendine eccetera eccetera poi a morire la seconda era lei perché inciampava non mi ricordo io perché mi ritrovo in questa scena mi ricordo piene di glicerina sai quando ti fanno il sudore il sudore viene fatto con acqua e olio johnson che è spruzzato fa tutto questo perlage sudata tipo maglietta bagnata capito così di sudore e messa le spalle al muro vengo poi sgozzata sì e quindi resta il figeiro che c'è un lieto film non ce lo dire no quella almeno guardatevi photoshop va bene grazie mille per far capire il rispetto che ho io della calabria te ragiamo tantissimo continuavo a dire al rapone dai quel film che ha girato in repubblica cieca che ha detto una volta in repubblica cieca invece era la calabria comunque con tutto rispetto per la repubblica cieca però l'ho proprio confusa con un'altra nazione neanche con un'altra regione adesso non avremo più dubbi d'ora in poi esatto calabria sì repubblica cieca ma quindi anche il film è aumentato in calabria cioè nel senso nella storia è stato in calabria proprio gli amici eravamo noi che andavamo a fare una gita cioè un viaggio insomma bellissimo comunque è credibile che uno va a fare un viaggio in calabria certo è estate e inverno? è estate io avevo delle magliettine minigonne anche situazioni certo perché l'horror comunque l'horror è estivo infatti l'horror è estivo pensa a quei cappotti gli ammazzamenti insomma con North Face capito? se si macchia solo il Montclair invece uno deve vedere ma è bella questa cosa l'horror che è un genere estivo è vero perché poi io penso sia fatta apposta perché magari d'estate si esce e quindi si va al cinema a vedere queste cose non lo so penso sia proprio fatta apposta però questo è il suono della GoPro che dice la mia batteria è finita e quindi siamo stati bravissimi forse è estivo perché forse è un genere che si va a vedere al cinema d'estate forse e no se lo giri ah dici ma io dico in America nel senso penso sia proprio una cosa che siccome è spesso ambientato in case vacanze o roba del genere forse anche un film che va a vedere visto che è quel periodo lì lo va a vedere in quel periodo là penso può darsi chiedevo i nostri amici però penso sia una logica non me la ricordo sicuramente gli americani avranno messo una logica commerciale anche dietro questo perché comunque se c'è una cosa che sanno fare è applicare l'arte che ha il danaro va bene siamo arrivati alla fine siamo stati mi sono molto divertito grazie mille Liliana grazie mille a maggior ragione perché le finestre aperte l'aria che circola e le mascherine due metri di distanza invece sono molto contento che siamo riusciti a fare questa puntata grazie mille a te a voi grazie ok allora grazie a tutti grazie a tutte ci vediamo alla prossima puntata ciao ciao